La stagione autunnale La stagione autunnale inizia con il botto. Risultano prenotate infatti quasi il 50% delle camere offerte per i soggiorni di ottobre, dato già oggi al di sopra del venduto del 2019 e anche novembre con il 42,8% di prenotazioni dicembre, 28,7% e soprattutto complice al favorevole calendario dei ponti festivi risultano già superiori a quanto registrato nello stesso periodo del 2022. A testimoniare la ripresa del turismo nell'isola e nel resto d'Italia, come è emerso dall'indagine Enit Union Camere, il ritocco alle tariffe. Quelle applicate nei mesi cosiddetti di spalla sono più alte rispetto allo scorso anno per 4 strutture su 10, una scelta che insieme ai buoni risultati ottenuti in termini di vendita già da inizio anno, porta il 45% delle imprese a prevedere utili nel bilancio a fine anno, addirittura più del doppio del settembre 2022, quando questa previsione era stata formulata solo dal 20% degli operatori turistici. Le tendenze che emergono dallo studio confermano inoltre un aumento della domanda da parte degli stranieri che vedono nel nostro paese la destinazione ideale per vivere esperienze esclusive all'insegna dello stile di vita italiano, che al pari del Made in Italy rappresenta un vero marchio di eccellenze e di qualità. Si tratta in particolare di turisti con redditi di fascia medio-alto, un'importante propensione alla spesa, il che dà vita a quel turismo di alta gamma essenziale per il benessere economico dell'Italia, poiché genera entrate significative, crea posti di lavoro, aumenta la visibilità e l'immagine del brand nazionale. Dall'indagine diretta ai turisti in vacanze in Italia, elaborata da ISNART per l'Osservatorio sull'Economia del Turismo di Union Camere e delle Camere di Commercio nel corso dell'estate 2023, emerge però come il caro prezzi abbia influenzato il budget dei molti turisti che ci hanno scelto come destinazione. Se si considera la spesa media, 71 euro al giorno pro capite sono state destinate all'alloggio, tra strutture ricettive e mercato parallelo degli affitti brevi, con un aumento di 15 euro per ogni giorno di vacanza rispetto all'estate 2022, ovvero il 27% in più. Condizione che però ha costretto molti turisti a cercare il risparmio su altre voci, in particolare sui pasti consumati fuori casa, i divertimenti, lo shopping ma anche la cultura. Non sorprende quindi che la spesa media per beni e servizi acquistati sul luogo di vacanza, risultato di 60 euro al giorno a persona, appaia ridotta sia rispetto alla scorsa estate che a quella del 2019. Più propensi comunque gli stranieri. Il 68% dei vacanzieri provenienti da oltre confine spende in vacanza per l'acquisto di mode e abbigliamento e in acquisti di artigianato tipico e di proposte esperienziali, meglio seno-gastronomiche che riescono a combinare cultura, cucina, bellezze naturali e accessibilità. Gli stranieri che acquistano la casa in Sardegna preferiscono farlo nel nord dell'isola. In cima alla classifica delle preferenze e delle località c'è la Maddalena con un bel 10%, mentre allargando il cerchio piacciono le case della provincia di Sassari con il 68,92%. Il risultato del reputo è realizzato sulle richieste dei primi otto mesi del 2023 da gateaway.com, il portale immobiliare italiano per vendere casa all'estero. Il lavoro è stato presentato in occasione del convegno La tua casa dei sogni in Sardegna, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Cagliari. Sono soprattutto gli statunitensi a voler comprare casa nell'isola, al secondo posto c'è la Germania, poi il Regno Unito, la Francia e la Svizzera. Dopo Sassari ci sono il Sud Sardegna con il 13,53% delle richieste, Cagliari con il 7,18%, Oristano 6,29% e Nuoro con il 4,9%. Se invece si guardano i dati a livello annuale è la provincia di Nuoro a registrare il progresso più marcato delle richieste con un più 42,55%. Segue il Sud Sardegna con un più 31,07%, sul fronte dei comuni invece è la Maddalena a guidare la classifica con il 9,8% delle richieste. Seguono Castelsardo con il 9,22%, Trinità d'Agulto e Vignola con l'8%, Budoni con il 5,68%, Arzachena con 4,18% e Quartus Sant'Elena con il 4%. Che cosa cercano gli stranieri? Soprattutto una casa prevalentemente restaurata il 44,79% del totale delle richieste e di oltre 120 metri quadrati. Con il giardino il 72,31%, senza la piscina il 60,76% e senza terreno il 78,84%. Sul fronte dei prezzi la fascia tra 100-250 mila euro registra il 31,54% delle richieste. Segue la fascia da 0 a 100 mila con il 29,74% e quella dei 200-500 mila con il 20,98%. Solo il 9,89% invece ricerca proprietà da 500 mila euro e un milione e il 7,85% oltre un milione di euro. L'interesse turistico spagnolo verso la Sardegna è in costante crescita, come dimostrano le recenti ricerche sul portale Skyscanner con un impressionante aumento dei click relativi alla parola olbia. La ricerca è stata effettuata su un portale di comparazione di voli, mi spiego meglio, è un portale nel quale le persone vanno a cercare tutte le varie possibilità di volo che possono acquistare per recarsi in una specifica destinazione. Quindi è stata digitata la parola olbia in termini di aeroporto, non di destinazione. Il che significa che da parte del mercato spagnolo sicuramente c'è stato e c'è un grande interesse per quanto riguarda la zona nord-est della Sardegna, perché cercare l'aeroporto di Olbia non significa ovviamente che ci si voglia fermare ad Olbia, ma significa sicuramente che si vuole atterrare in prossimità delle zone nord-est dell'isola. È stato registrato un 350% in più di ricerca rispetto al passato, sarebbe sicuramente utile capire quale fosse la base di partenza, cioè stiamo parlando del 350% di quale numero? 0, 20, 10, 30, 3 mila, un milione, perché questo ci darebbe anche un dato più completo, mettiamola in questi termini. Effettuare la ricerca per venire a conoscenza, intanto se ci sia un volo e di quanto possa costare questo volo, non significa prenotare il volo, non significa scegliere il volo, significa palesare un interesse. Quindi io personalmente, da operatori turistico, vedo questa come una notizia meravigliosa, perché già prendere atto che ci sia tanto interesse nei confronti della destinazione nord-est dell'isola è sicuramente una notizia bellissima e mi metterei subito a lavorare. Mentre questi dati rappresentano un'opportunità eccezionale per l'isola, è importante considerare le sfide che questa crescita comporta e come affrontarle per garantire un'esperienza turistica di alta qualità iniziando dai rifiuti e dal trasporto pubblico. Noi dobbiamo fare in modo che l'esperienza di questi turisti, così come di tutti gli altri vorrei dire, sia un'esperienza che diventi valida, che consolidi l'interesse, perché dall'interesse si parla all'esperienza positiva, il che significherebbe aver fatto un buon lavoro. Quali sono i passi necessari per fare un buon lavoro? Io purtroppo continuo a parlare di cose basiche, perché vedere tanti sacchetti di mondezza nei bordi delle strade mentre vado in spiaggia non è piacevole per me che sono residente, figuriamoci per i turisti. Non avere dei servizi basici in varie zone dell'isola non è sicuramente fare un buon lavoro. Non avere un trasporto pubblico interno che permetta al turista di poter scegliere se effettivamente voler noleggiare una macchina o utilizzare un transfer non è sicuramente un buon servizio, perché ad oggi i nostri trasporti pubblici interni sono un po' carenti. Ecco, mettiamola in questi termini. E quello che succede purtroppo è che le persone che vengono in vacanza lasciano questi commenti all'interno del profilo di TripAdvisor o di Google della struttura alberghiera. Spesso ci troviamo a rispondere che ovviamente noi non possiamo essere responsabili di ciò che avviene al di fuori dalle nostre strutture alberghiere, ma che sicuramente ci faremo portavoce. Svolta storica per la mobilità nel territorio nuorese, la RFI, la rete ferrovie italiane ha annunciato che la linea ferroviaria Bassanta-Nuoro si farà. La notizia arriva al termine di un tavolo tecnico convocato dalla prefettura di Nuoro con i vertici della RFI, che lo scorso 2 agosto ha avviato lo studio di fattibilità per i 50 chilometri di percorso che separano Nuoro da Bassanta. Ci vorrà ancora tempo certo, lo studio di fattibilità si concluderà soltanto nel 2024, ma ormai l'iter è da considerarsi avviato. Attualmente il capoluogo barbaricino è collegato con Macomere solo da una linea scartamento ridotto dell'Ars ormai obsoleta. Per raggiungere Cagliari ad esempio occorrono 4 ore e da tempo i cittadini radunati anche in un comitato chiedono una ferrovia moderna e che permetta loro di muoversi in maniera veloce verso i centri più importanti dell'isola. Scartata quindi l'idea di collegare Macomere a Nuoro, ci si è riversati sulla tratta di Abbasanta, considerata più fattibile. Questa è una giornata storica, ha commentato il prefetto di Nuoro, Gianfranco Dionisi, alla fine dell'incontro. In attesa della realizzazione della ferrovia, stiamo lavorando con Trenitalia, ha spiegato affinché a breve possa essere operativa una navetta che trasporterà i Nuresi da Abbasanta al capoluogo barbaricino. La tratta ferroviaria Abbasanta-Nuro è il risultato della straordinaria attenzione che il ministro Salvini ripone alle esigenze che provengono dalla Sardegna dopo anni di disattivazione politica da parte del governo, ha commentato Cristian Solinas, presidente della regione Sardegna. In questi ultimi anni, precisa, l'Aggiunta regionale ha lavorato lacrimente perché la RFI concretizzasse la proposta progettuale tracciata nel corso di numerosi incontri tra Ministero e Regione. Sento il dovere di ringraziare il ministro Salvini per aver voluto dare concreta e pronta attuazione agli accordi. Si tratta di una infrastruttura essenziale per il territorio, ancora di più alla luce dell'Einstein Telescope e dei progetti che ne saranno a margine, conclude. Ed in realtà nel dossier da presentare alla Commissione Scientifica Europea che dovrebbe scegliere dove costruire il grande rilevatore di onde gravitazionali, si dovrà inserire anche una parte relativa alla mobilità interna poiché si suppone che il personale e quanti si dovranno muovere tra l'Ula e i principali aeroporti sardi chiederanno di poterlo fare anche in treno e non certo con una linea che si muove a 40 km orari come l'attuale. Sviluppo economico e visione è alta formazione e ricerca di competenze da inserire nel tessuto produttivo. Le risorse ci sono, 90 milioni, eppure il programma impara. Risorse importanti che arrivano dal Fondo Sociale Europeo, Europa e Sardegna, strette e unite, all'insegna di un programma importante e, si auspica, determinato. 90 milioni quindi per l'alta formazione dei disoccupati e il reinserimento sociale di ex detenuti sofferenti psichici e disabili. Un occhio rivolto al sociale, finalmente. Anche perché l'imperativo categorico è quello del... Istruzione, formazione, inclusione, fatto di buone prassi, di scambi anche internazionali, affinché il mondo delle competenze sia arricchito, perché senza le competenze il lavoro non si trova. La strada giusta, insomma, dentro il convegno, impara, FSE+, buone pratiche europee per l'occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione, organizzato dall'autorità di gestione FSE+, Sardegna. Oltre ai risultati di oltre un anno di attività e le sue implicazioni sono state tracciate le linee guide per il futuro. Quindi questo progetto insegna agli stati, alle associazioni, alle comunità a coprogettare il proprio futuro attraverso la formazione delle competenze, attraverso l'inclusione sociale, attraverso tutte quelle buone prassi che costruiscono il mondo nuovo. È un modo di costruire il lavoro in un mondo che è cambiato e che ha bisogno delle competenze di tutti per costruire davvero un mondo più giusto e sostenibile. La buona pratica, insomma, le nuove risorse previste dai bandi di dicembre si aggiungono a quelle stanziate dagli avvisi già pubblicati, 144 milioni di euro che comprendono, tra l'altro, il bando Destinazione Sardegna Lavoro. che vale 40 milioni di euro, che non sarà più dedicato alle sole imprese del settore turistico, il bando per le strategie territoriali e a favore dei percorsi di riqualificazione dei disoccupati e quelli, infine, per la formazione professionale e i progetti per il recupero e il supporto agli studenti nell'innovazione. Il Fondo Sociale Europeo Plus è e rimane uno strumento decisivo al servizio della dignità delle persone. La strategia è quella di dare la priorità all'occupazione giovanile investendo in orientamento e formazione mirata all'inserimento lavorativo. L'altra visione è quella di intercettare e confrontarsi con altre esperienze europee. Co-progettare è una parola composta su cui ragionare e soprattutto mettere in pratica, tradotto, spendere bene i fondi europei. La programmazione per l'utilizzo dei fondi europei FES Plus Sardegna 2021-2027 è già iniziata e tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre la regione pubblicherà i bandi per i nuovi progetti. Una visione azzeccata a Cagliari al centro dell'Europa per innovazione, una piattaforma e una regia che in tempo reale fornisce informazioni dettagliate su sicurezza, ambiente, flussi turistici e tanto altro ancora. È un'iniziativa che ci pone a livello internazionale, a livello nazionale tra le prime città con strumenti non solo che permettono di avere una serie di informazioni sulla città e dati sulla città che vanno da dati ambientali, inquinamento, livello di calore, rischio di precipitazioni, altre informazioni poi in futuro anche sulla mobilità e sui flussi turistici, ma che soprattutto oggi sono tutte sistemate all'interno di una piattaforma che quindi aiutano l'amministrazione a prendere delle decisioni che sono decisioni il più democratico possibile perché ci dicono che cosa vogliono e cosa fanno i nostri concittadini e dall'altro in futuro può anche essere uno strumento di informazione per gli stessi cittadini. Un progetto, spiega con soddisfazione Alessandro Guarraccino, assessore dell'innovazione del Comune di Cagliari aderente ai tempi moderni, un'infrastruttura digitale che mette il capoluogo della città metropolitana in testa a livello nazionale per visione del futuro. Sulla stessa linea Riccardo Castrignano, dirigente del servizio Smart City, innovazione tecnologica e ancora un lavoro corale chiuso in tempi stretti, chiusa il sindaco di Cagliari Truzzo, a lui gli fa eco Giorgio Quersoli, professore ordinario di idraulica, ambientale e meccanica dei fluidi dell'Università di Cagliari e Chiara Garau, professoressa associata in tecnica di pianificazione urbanistica. Cagliari cambia in meglio ed è sempre più smart, facile. L'Arcimboldo d'Oro è arrivato in Sardegna. Il prestigioso premio conferito da uno dei più importanti magazine del settore no gastronomico è stato infatti conferito a due maestri pizzaioli sardi, la cagliaritana Emiliana Scarpa e l'oristanese Giovanni Cauli. Il premio è stato consegnato a Napoli, patria del piatto più amato e diffuso nel mondo. Nella scelta la commissione non valuta però solo il gusto della pizza, il grado di lievitazione, la genuinità degli ingredienti ma anche la capacità comunicativa. Ed ecco le motivazioni che hanno spinto la giuria a conferire la statuetta disegnata dall'artista Francesco Conte ai due sardi, tramandare un mestiere antico con il saggio utilizzo di tecniche e destro personale, trasmettere tradizioni e al tempo stesso innovazione con unicità e capacità emozionale. Siamo estremamente soddisfatti di questo importante riconoscimento, come avete visto seguendoci abbiamo fatto diverse avventure insieme ma questo per noi è una soddisfazione doppia, è una segnalazione dei nostri colleghi, è una nomination importante, uno dei premi più ambiti per il pizzaiolo quindi siamo estremamente felici e emozionati di aver ricevuto questo premio. Ho fatto i primi Arcimboldo in Sardegna e questo è una grande soddisfazione insieme a Gio, come ha detto Giovanni abbiamo fatto tante diverse collaborazioni insieme e arrivare insieme con questo premio alla carriera, a quello che è il nostro lavoro, rappresentare la Sardegna, comunicare l'innovazione, la tradizione per noi è bello e io sono contenta di averlo fatto con il maestro Giovanni Cavoli. Emiliana Scarpa ha iniziato a studiare l'arte della produzione della pizza appena sette anni fa, ma la sua passione l'ha portata ad approfondire la conoscenza della materia e delle sue capacità di comporsi con altri alimenti attraverso numerosi corsi e master e non è la prima volta che ricevi un premio. Ha vinto nel 2002 il primo posto Trofeo Rodolfo Sorbillo è anche una delle poche donne che si cimenta in questo mestiere complesso e faticoso. Dall'Arcimboldo viene definita portavoce dell'arte bianca made in Sardinia. Giovanni Cavoli invece è un esperto di panificazione e da anni è divenuto consulente delle principali aziende produttrici di farina. Insieme a Emiliana pensa ad elaborare nuove tipologie di pizza perché quell'impasto bianco, se debitamente saputo far lievitare, può ospitare come un piatto ogni sorta di alimento. La Sardegna può diventare la seconda capitale della pizza italiana. Beh, noi ce la mettiamo tutta. Napoli sarà sempre comunque un'istituzione, ma noi facciamo il possibile perché poter essere presenti e sempre diciamo abbastanza all'avanguardia nel settore della pizzeria. Non è carino, è stato Pulcinella che mi ha fatto i complimenti anche perché donna e poi cagliaritana ha detto veramente qui siamo proprio, è una cosa bella, è una cosa bella per te, quindi benvenuta fra noi. Il santuario di Santa Maria di Uta continua a far parlare di sé. Nei giorni scorsi i 50 studenti, assistenti e professori dell'Università di Monaco di Baviera hanno visitato l'importante monumento romanico del sud Sardegna. La campagna di studi è stata caratterizzata da sopralluoghi e rilievi consentendo agli studenti e agli accademici tedeschi di immergersi nell'arte e nell'architettura romanica, un patrimonio culturale di inestimabile valore presente in tutto il territorio regionale. Anch'io oggi abbiamo avuto la dimostrazione di quanto vengono apprezzati in tutto il mondo i beni culturali della nostra nazione, ma soprattutto in questo caso del nostro paese con Santa Maria. È stato un modo per metterci anche a confronto e rivedere alcuni punti saldi nei quali si intende investire tantissimo, cioè la cultura come veicolo e testimone di pace, di fratellanza, di unità, ma soprattutto anche un grandissimo veicolo di sviluppo economico. L'unico, come dico sempre, irripetibile e che possiamo vantare in tutto il mondo. Guidati dalla bravissima Michela Foddis, il gruppo ha esaminato da vicino le caratteristiche architettoniche e artistiche del santuario di Santa Maria. Sono Stephen Bates e io sono Bruno Krucke. Siamo professori di urbanistica ed edilizia dell'Università di Monaco di Baviera. Siamo qui in Sardegna per un viaggio di istruzione durante il quale studieremo le chiese romaniche dell'isola, che sono molto belle. Stiamo misurando le chiese e faremo dei disegni di ogni chiesa. Questo è parte del nostro metodo di insegnamento, che anche se si occupa di edilizia e architettura contemporanea, prevede un'immersione nelle vecchie tecniche architettoniche della cultura europea dei secoli passati. Per noi è molto importante comunicare agli studenti che c'è una cultura dell'architettura che è iniziata 2.500 anni fa e per essere un buon architetto contemporaneo devi conoscere il passato. Se si osservano molto attentamente edifici come questi, puoi capire anche come sono stati costruiti, pietra su pietra. Questo semestre ci stiamo concentrando sulle strutture in pietra e per i progetti che gli studenti deranno verranno usate le pietre. Abbiamo scelto il sito di Reigonsburg che si trova vicino a Monaco, a nord di Monaco, che è anche una città medievale costruita in pietra. E questa è la relazione che c'è tra la Sardegna e la Baviera. Una connessione molto interessante per via della roccia calcaia, ma non per il granito. La visita del gruppo di studiosi ha messo in vetrina a livello europeo il piccolo centro del sud Sardegna, un'opportunità straordinaria per il paese e per l'intera Sardegna. Oltre modo all'esperienza ha permesso di approfondire la comprensione dell'architettura romanica e del suo impatto sulla storia e sulla cultura della regione. Oltre a promuovere lo sviluppo del turismo culturale come fonte di crescita economica. UTA crede nella cultura e nel suo grande patrimonio architettonico come fonte di sviluppo e di crescita per l'intera comunità. Una prima edizione andata molto bene perché il Festival Letterario Oltre i Confini, organizzato dalla Fondazione Pura Cultura Diffusa, ha scommesso e vinto prima di tutto perché ha scelto alla fine del decimo mese dell'anno per organizzare un evento che destagionalizza all'infinito. Destagionalizzare. Verbo transitivo che piace per spiegare come in Sardegna si può arrivare e stare bene pure a ottobre. Evento e luogo pure dintorni e l'archetipo, il modello che il turista sceglie prima all'evento poi il luogo. Che sia un concerto, una rassegna, un festival o una partita di calcio. Qui il football non c'entra. C'entra l'aspetto promozionale del territorio e a questo aggiungiamo di inclusione sociale. Per la prima volta il Comune ha organizzato la prima visita guidata per le persone con disabilità visiva e quindi è stata effettuata una visita a Nora con un percorso realizzato apposta per loro. Chapeau insomma per un festival davvero intrigante che ha visto alternarsi sul palco tanti figure e scrittori da Laura Foise, Giovanni Forlesa, Stefano Enrique, Roberto Pili, presidente dell'Oierfop e il suo manifesto libero che emette in relazione i disturbi visivi e l'autismo. Pagini importanti redatte insieme a Bacchisio Zolo direttore dello stesso ente Donatella Petreto docente del dipartimento di pedagogia psicologia e filosofia dell'Università di Cagliari e Periclee Farris vicepresidente dell'Apri. Festivale sociale e turismo e intrattenimento già e chi meglio di Dario Vergassola per intervistare gli scrittori, artista eclettico, uomo sensibile coglie il senso preciso di questo festival cominciando proprio da questo aggettivo. Interessante le disabilità delle abilità e soprattutto capire anche come si comportano i nostri scrittori e soprattutto sono io che li metterò l'augo un attimo in realtà non è così pesante però cerchiamo di fare un'intervista abbastanza non dico insolente ma che ci avvicina un po' al cazzeggio. Soprattutto sui sardi su tutti gli scrittori vengono a dei festival fantastici che fanno in Sardegna mi sono trovato alle 4 di notte a mangiare delle cose degli animali che pensavo fossero estinti. Bravi tutti insomma davvero anche perché gli da di sposare la bellezza di un luogo con le pagine dei libri senza dimenticare il sociale e l'inclusività si è dimostrata vincente. Grazie a tutti